Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai sfondare una sedia. Oggi Nintendo ci ha ricordato che manca veramente poco all'uscita di Echoes of Wisdom tramite la pubblicazione di un trailer nuovo di Zecca. Si tratta di un filmato non eccessivamente lungo ma che aggiunge parecchie informazioni rispetto al reveal avvenuto durante il direct di giugno. Infatti ora possiamo sbilanciarci su quale sia la natura del progetto e come questo Echoes of Wisdom si ponga nei confronti della tradizione e anche dei titoli più recenti. Quindi in questo video ricchissimo vi dirò un po' le mie impressioni sull'avventura di Zelda in uscita il 26 settembre. Mi raccomando però vi aspetto nei commenti per capire se condividete il mio stesso entusiasmo e se magari avete notato qualcosa che mi ha sfuggito. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete un gioco gratis c'è il giveaway del mese di Instant Gaming, il sito perfetto per risparmiare quanto più possibile sui giochi digitali. Altrimenti supportatemi, sopportatemi ma soprattutto datemi i sordi. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Nel primo video dove discutevamo del reveal di Echoes ci domandavamo quanto il titolo fosse in equilibrio tra le due grandi anime della serie. Quella più classica e tradizionale oppure quella più open e non lineare, insomma quella rappresentata da Breath of the Wild e il suo seguito. E questo trailer serve in gran parte proprio a fugare ogni dubbio. C'è tantissimo dell'esperienza degli ultimi open world. Non a caso la premessa del trailer è quella di visitare i luoghi di Hyrule proprio per far capire quanto l'apparente somiglianza con il layout della mappa di The Link to the Past sia in realtà qualcosa di avvicinabile solo alle sue fondamenta. Prima però devo dire una cosa importantissima. Finalmente la localizzazione italiana si è allineata alla pronuncia americana e possiamo dire addio a Hyrule, una cosa che mi ha sempre confuso tantissimo soprattutto nella creazione di video qua su YouTube. In generale devo dire che negli ultimi tempi gli sforzi del team di localizzazione sembrano aver raggiunto un nuovo livello di maturità. Ho apprezzato tantissimo anche quel poco che si è visto del trailer di Flutternauti alla carica, titolo che apprezzo sempre di più e spero che queste accortezze si riflettano poi nei prodotti finiti, presenti e futuri. Comunque parlavamo di Hyrule. Allora da quel poco che si vede dalla mappa di gioco effettivamente alcuni tratti del layout generale ricordano la disposizione di quanto visto in A Link to the Past e A Link Between Worlds, ma pur avendo gran parte della mappa oscurata si notano già delle differenze. A maggior ragione, quando inizia il tour dei vari luoghi, ci si rende subito conto che i vari biomi standard della serie di The Legend of Zelda sono stati riproposti in delle varianti che non ricordano né il capolavoro per SNES né il suo pseudo remake per 3DS, quanto piuttosto la mappa di Breath of the Wild e del suo seguito. Il deserto Gerudo ne è un esempio lampante, con la cittadella e l'oasi che sembrano essere state prese pari dall'open world del 2017 e poi riadattate allo stile già visto nel remake di Link's Awakening. Ecco, potremmo dire che è un po' come guardare Breath of the Wild tramite un filtro temporale che ci riporta ai tempi dei 16 bit, però con lo stile grafico di Link's Awakening a fare da collante. Quelle che possono sembrare scene estremamente classiche vengono interrotte dalla dissacrante meccanica degli Eki che permette al giocatore di rompere il normale flusso del gameplay e dei suoi luoghi. Vedere Zelda che si mette a dormire in mezzo al deserto sbattendosene di tutto e tutti non apprezzo. Così come è molto interessante l'aver riproposto le razze storiche della serie creando poi dei mix inediti come ad esempio il confronto tra le due specie di Zora che se non sbaglio, ma magari correggetemi, non si erano mai incontrate prima d'ora. Sono sempre stato abbastanza critico nei confronti di questo art style ma devo dire che il character design funziona particolarmente bene sia nella riproposizione di Deku, Zora e Goron sia nella creazione di modelli secondari come NPC e animali. L'inclusione del cavallo dimostra quanto l'approccio non lineare abbia influito nella creazione di questo titolo e si nota una grande libertà esplorativa che permette di superare ostacoli con facilità e soprattutto rapidità. Benvenga è insomma un impianto di gioco reattivo e che tiene lontane le lungaggini del backtracking o che almeno le limita il più possibile. C'è da chiedersi però come verrà reso il senso di progressione all'interno di una struttura del genere. Negli Zelda più tradizionali gli oggetti che si acquisivano nel corso dell'avventura avevano molteplici funzioni, sbloccavano nuove zone, davano una mano in combattimento e a volte facilitavano ed alleggerivano l'esplorazione. Se da subito sarà possibile con il cavallo e le varie abilità aggirare i limiti di Zelda e saltare così piccoli ostacoli e correre per le varie schermate, eludendo così tutti i limiti strutturali della mappa, è probabile che tutto il sistema di progressione sia affidato all'ottenimento di nuovi echi, magari da utilizzare in situazioni contestuali. Infatti mi sorge un dubbio. A un certo punto viene mostrato un negozio dove comprare accessori da equipaggiare. Alcuni hanno funzioni pratiche, altri invece valore puramente estetico. Le pinne degli Zora consentono di velocizzare il nuoto, abilità che sembra però già presente nello skillset di Zelda. Insomma, anche gli strumenti potrebbero aver perso la loro centralità in una scelta di game design che si allontanerebbe anche dal negozio di A Link Between Worlds, che permetteva da subito di scegliere l'ordine con cui ottenere questi oggetti chiave. Insomma, staremo a vedere, però le influenze di Breath of the Wild non si fermano certamente qui e se vogliamo dirla tutta, dai, sto gioco sembra prendere a piene mani pure la Pikmin 4. È palese che i punti per il viaggio rapido siano in realtà le cipolle dei Pikmin notturni. Perdonatemi, ma non mi ricordo neanche un nome di quel gioco. Il design però è identico e non mi sorprenderebbe vedere citati gli esserini in qualche modo, un po' come in Link's Awakening facevano la comparsa alcuni nemici del mondo di Mario. Ma quindi dicevamo, quali sono le altre influenze prese direttamente da Breath of the Wild? Beh, principalmente due. La prima è la rielaborazione delle meccaniche dei cibi e della cucina, qui riproposte nei frullati, e poi c'è palesemente il fatto che l'abilità svelata in questo trailer, la sincronia, sia l'ultramano. Eh, non è stato fatto nulla per nasconderlo, anche esteticamente è proprio la stessa cosa. Però è qui che secondo me le cose si fanno interessanti. Il binding è una sorta di forma involuta dell'ultra-end, che non permette il piano controllo come in Tears of the Kingdom, ma al tempo stesso snellisce un'esperienza che a volte risultava estremamente complessa e macchinosa, e l'avere aggenialata e l'avere aggiunto a questo concept una declinazione assente nella versione originale, ovvero la possibilità di invertire lo strumento e lasciarsi così trascinare dal legame. Un'idea semplicissima che però apre a un ventaglio di possibilità sterminato, e alcune applicazioni di queste idee mostrate nel trailer lasciano intuire come in Echos ci si potrà sbizzarrire a dei livelli che non avranno nulla da invidiare alle meccaniche da builder proposte in Tears. La cosa bella è che c'è ancora tanto da scoprire, il filmato termina con un salto nello squarcio, che di sicuro verrà approfondito nel prossimo trailer prima della pubblicazione del gioco, e non escluderei del tutto la possibilità che ci sia ancora qualche nuova meccanica da mostrare. In fondo, seppur in maniera estremamente semplificata, proprio per adattarsi al contesto 2D, questa è la dimostrazione che l'efficacia del gameplay di Breath of the Wild deriva dalla convincente integrazione di meccaniche semplici che possono però generare così interazioni complesse. E da quel poco che si è visto, Echos of Wisdom va trattato come uno Zelda a tutto tondo, grande, ambizioso e sperimentale, nonostante l'impianto bidimensionale possa far pensare a un progetto minore. Nulla mi toglie dalla testa infatti che ci troviamo di fronte a un ulteriore scarto, tra molte virgolette, dell'esperienza di Breath of the Wild. Se Tears of the Kingdom è nato come DLC e poi si è evoluto in qualcosa di molto più complesso fino a diventare un titolo autonomo, così questo Echos è la risultante di tutte quelle idee che sono state scartate in fase di finalizzazione dell'ultimo Zelda. E questo è un bene o un male? Penso sia un bene, anche se rimangono un po' di dubbi su come si deciderà di affrontare l'idea dei dungeon o dei sacrari, ma sono incuriosito da questo approccio non lineare che però non sfocia in un builder a tutto tondo, ma rimane sempre confinato nei canoni di un adventure con delle soluzioni creative sì, ma che sono ancorate a quello che è il puzzle iniziale. Questa sia un'idea un po' contorta, ma magari ve la spiegherò meglio quando avremo la possibilità di provare il gioco. Insomma, ben venga questo nuovo corso degli Zelda, anche se spero sempre che la tradizione rimanga viva, magari in un filone di remake, però vorrei chiudere con quello che potrebbe essere un potenziale difetto della produzione, l'aver ripreso pari pari tutta l'interfaccia di Breath of the Wild. Parlo di elementi della UI come la minimappa sempre a schermo, gli indicatori dei dialoghi con le stesse icone e anche il quest log identico spiccicato al titolo del 2017. Spero che in tutto questo si sia trovata una soluzione molto meno macchinosa rispetto ai menu di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom e alla loro pessima gestione dell'inventario, che costringeva infinite sessioni di scrolling orizzontale che molto spesso interrompevano drasticamente il flusso dell'azione. Detto questo, aspetto di sapere la vostra su questo nuovo trailer, vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro Egos, Michele Wisdoms, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retrogame. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono tranquilli, sono tranquilli, sono n-i-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni.